Formazione, un gruppo che tra l'altro ha il suo attivo, oltre che l'intensa attività musicale, concertistica, di produzioni e discografiche, un doppio progetto. Questo è molto interessante, insomma, il loro lavoro, perché c'è il progetto di musica demenziale, quello forse per il quale hanno avuto successo nella prima parte della loro carriera. Successivamente hanno scelto quest'altra strada della musica etnica con un progetto detto Amaiura e il suo autore, poi naturalmente Orsola provvederà a presentarlo, anche se le telecamere in qualche modo l'hanno già inquadrato, ha voluto scrivere un brano che è molto forte, peraltro, una sorta di riflessione su quella che può essere una condizione purtroppo comune a molti, quella di non avere un rapporto col proprio genitore. Quasi non conoscerlo, tant'è vero che già dal titolo, il titolo la dice lunga sul contenuto, perché si danno del voi, quindi quasi non si riconoscono. Sentiamo però nel dettaglio di chi sto parlando e che cosa esattamente ci canterà. Esattamente, io parlo del gruppo delle Amachiaus, in particolare in questo caso del suo leader qua accanto a me, Ignazio Deligia. Ignazio, prego. La canzone che canteranno appunto è titolata Fostei. Naturalmente voglio presentare il resto del gruppo, abbiamo Nicola Cogliolo al pianoforte, Mauro Masia alla chitarra, Ignazio Frau all'Elon Eddas, Robertino Loy al basso e infine Jonathan Tanca alla batteria, quindi con Fostei a Amachiaus. Grazie. Fostei. 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 Fostei, no. Fostei. O sta in un barrotempo di abbarrare accantenni E allo spipe di una mente che a zonimenticare O sta in un barrotempo di abbarare accantenni E raga, liberare accantenni E i ricordi che c'è una sorpresa I ricordi di un barrotempo di amarg Andate in un barrotempo di affermi Reschere a sol, in questo non lo sperdi tu E tu in ara in due Grazie a tutti E ringraziamo gli ammachiaos, naturalmente con la nostra targa Grazie per essere stati qui con noi stasera Ciao Ignacio, eccoci qua, ciao